Voi sapete che siamo una piattaforma a livello nazionale e si potrebbe dire anche internazionale visto che il web lo è, ma sapete anche che il cuore, non soltanto il cuore, è nel nostro Veneto da dove produciamo quotidianamente tutte le nostre interviste. Ebbene, immaginate il piacere che ci fa nel dare la notizia, del resto già data da tutti i giornali, che lo stabile del Veneto è al primo posto tra i teatri italiani, teatro da primato dunque e per la prima volta nella sua storia, poi cercheremo di capire il perché. Lo dicono i dati, lo dice anche il governatore Zaia e va benissimo, ma soprattutto i dati relativi ai finanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo messi a disposizione del Ministero della Cultura. è importantissimo dire la fonte da dove arriva, perché decretano il primato a livello nazionale in base a efficienza gestionale, livelli occupazionali delle maestranze artistiche e tecniche, giornate recitative, qualità artistiche e azioni di sviluppo sostenibile. Beh, non si può pretendere di più. Come ci dirà tra poco nella nostra intervista Gian Piero Beltotto, che è il presidente della Fondazione del Teatro Stabile del Veneto, cui diamo la parola dopo la sigla come sempre. È un piacere salutarti Gian Piero, salutare il presidente della Fondazione del Teatro Stabile del Veneto, anche dobbiamo ricordare che parliamo di una fondazione. Piacere di riabbracciarti virtualmente, ciao. Buongiorno a te, buongiorno ai tuoi ascoltatori e grazie per questo invito. Dunque, da quando tu sei presidente? Dal 2018. Pensavi che avresti fatto questa strada arrivando a questo risultato? Beh, pensavo certamente che avremmo migliorato le performance, che erano piuttosto basse, perché noi partiamo in termini di punteggio da più o meno 79 punti che ci aveva dato il Ministero in quell'anno e quest'anno per la prima volta superiamo i 90. Arriviamo a 92 e in una classifica che va naturalmente spogliata da ogni olimpiadismo, siamo quelli che prendono più punteggio fra i teatri nazionali, che sono sette, e quindi insomma diventiamo un punto di riferimento, credo. Senti Giampiero, poi entreremo nel merito delle singole voci del perché hai raggiunto questo primato, ma che è il primo nella storia, tra l'altro, del Teatro Veneto, è nato, lo diremo dopo, tanti secoli fa, però tu a che cosa fai in qualche modo, leghi praticamente in qualche modo questi risultati? Se tu dovessi dire ho ottenuto quello che ho ottenuto soprattutto per questi motivi, cosa diresti? Il territorio ci ha creduto, il territorio che vuol dire le Camere di Commercio di Padova e Treviso di Venezia, il territorio che significa gli industriali di Veneto Est, il territorio che significa la Fondazione di Venezia, il territorio che sono i nostri teatri, perché i nostri teatri sono di proprietà dei comuni, i comuni aderiscono alla Fondazione adesso, all'Associazione fino a qualche mese fa, e soprattutto all'endorsement molto generoso che con me ha fatto sia il Presidente della Regione Zaia, sia il Consiglio regionale e tutto, perché senza quei tre milioni per legge che ci hanno dato una volta che siamo stati promossi in teatro nazionale, non abbiamo mai potuto avere la performance che abbiamo avuto. Allora, Giampiero, i motivi sono ben elencati e dicono, soprattutto, mi pare, anche efficienza gestionale. Ora, chi di teatro si intende come tu e un pochino anch'io sa che l'efficienza gestionale, che poi viene tradotta anche adesso nella sostenibilità, è un punto cardine per il teatro pubblico. Come sei riuscito a ottenere questo risultato? Un po' mettendomi contro la gente del teatro, perché quando ho proposto al Consiglio di Amministrazione che si arrivasse a una direzione generale, con un direttore generale che arrivava dal mondo dell'industria, in questo caso del porto, e quindi insomma delle infrastrutture e non del teatro, l'agente del teatro ha trovato il peccato di l'esa maestà e mi sono permesso di dire che non avrei ceduto. Me ne sarei piuttosto andato a casa, piuttosto che affidare il budget a gente del teatro, perché il teatro è generalmente mal gestito, perché viene gestito da gente che sa di teatro e di cultura, ma assolutamente nulla sa di gestione dei bilanci. Giustissimo, parole santissime. Ma questo, scusa se posso permettere, questo sta diventando un punto di riferimento anche per gli altri teatri, perché adesso mi sembra abbastanza banale quello che ho detto, nulla toglie alla gente di teatro il fatto di non sapere di bilanci, e nulla toglie alla gente che viene dalla gestione di non sapere di teatro. Il tema però è che poi quando scegli devi essere libero dalla politica, cioè io ho ancora nella testa gli attori, i registi davanti al teatro di Roma, aiuto, arrivano i fascisti, perché erano preso? Perché era stato preso come direttore artistico Luca De Fusco, che è un bravo signore che di teatro sa molto, e questo era un'offesa ai principi costituzionali. Potremmo fare il nome degli attori e dei registi che stazionavano davanti al teatro argentina dicendo no, passerà come Dolores Sibarurri a Barcellona nel 1936. Poi qualcuno, immagino del PD, che diciamo così è gente che quantomeno non cade nell'anarcosituazionismo, ha detto beh va bene, ma facciamo come ha fatto Venezia. Direttore generale e direttore artistico. E così hanno preso direttore generale e direttore artistico. E tutti sono rientrati a cuccia, belli, tranquilli, sereni. Non c'era stata nessuna marcia sull'Argentina, nessuna marcia su Roma. Avevamo finalmente arrestato la marea nera. L'onda fascista era stata fermata. Torneremo sull'aspetto della politica. Quando vuoi, qui si può parlare di quello che si vuole. Ecco, perfetto, perfetto. Ma con chi ti senti di condividerla comunque la tua gioia, che ti assicuro traspare, per chi ti conosce un poco, traspare tutta, la condividi con le maestranze, con il gruppo dei tuoi collaboratori. Vale la pena ricordare le tante giornate recitative che avete in annellato. E poi, tema importantissimo, quello della circuitazione degli spettacoli, che sappiamo essere sempre stato un vulnus per i teatranti. Con chi condividi tutto? Ma guarda, intanto con il pubblico. Perché tutto quello che si fa adesso, al di là delle partite amministrative, istituzionali, politiche, tutto quello che si fa perché il pubblico venga a teatro e si diverta una sera, con la moglie, con l'amante, con i figli, da soli. Perché se poi non hai in testa che al centro di tutto c'è il pubblico, cioè il cittadino che è il lettore, fruitore di servizi, lettore, uomo consumatore, se non hai in mente questa roba qua, poi alla fine fai, come spesso si fa nei teatri italiani, fai il teatro per un cucuzzaro di amichetti che poi ricambiano serenamente e così gli soldi girano sempre in una medesima piccola tribù che divide, spartisce e fanno bene i loro conti. Qui no. Ecco, qui no. Qui l'amichettismo ha trovato un bello stop. E quindi il pubblico innanzitutto. Poi il direttore generale Claudio Marconin che viene appunto dal porto di Venezia, donna che si è formata nella relazione anche tumultuosa e dura con le maestranze e con i sindacati dell'industria. Poi con il direttore artistico, perché avere preso Filippo Dini credo che sia stato un segnale di grande autonomia, anche perché il consiglio di amministrazione si era costituito come luogo giudicante. Quindi ci siamo assunti noi tutta la responsabilità. Non abbiamo detto oi boh, c'è qualcuno che ci costringe a prendere ciccio formaggio. Guarda, qui nessuno ha costretto nessuno. Se sbagliamo, sbagliamo noi. È improprio, mai per conto terzi. Poi certamente con l'attuale direttore artistico dell'estate teatrale veronese, Carlo Mangolini, che da noi è dirigente e che ha svolto un'azione di supplenza importantissima e adesso è direttore della nostra scuola. E poi con le maestranze. Cioè da noi una maschera, il direttore generale, il presidente, piuttosto che un elettricista, hanno tutti un ruolo e un lavoro. Mi verrebbe da citare Elliot, ma non lo faccio perché so che tu coglieresti una differenza e quindi mi correggeresti. Va bene, senti, delle ricadute economiche senza alcun dubbio ci saranno. Ma poi per vedere... Per adesso negative, peraltro. Ah sì? Certo, perché e questo senza colpa e senza responsabilità, ogni tanto mi arrabbio al telefono, non ho idea quanto e qualche volta il cedo. Però quando tu diventi primo e ti tolgono 50.000 euro, dici perché? E allora, ma perché c'è? Facemmo una quindicina di anni fa, immagino in una sezione del partito socialista di unità proletaria, ti ricordi il vecchio Psiup, ecco, si fece in una sede più o meno così di un algoritmo. Un algoritmo non è al, come in 2001, odissea nello spazio. Un algoritmo è una sorta di entità spirituale la quale decide, al di là dei tuoi meriti o dei tuoi demeriti, a chi vanno e a chi non vanno i soldi. Quindi, se sei in testa, cedi, cedi denaro. Se sei in coda prendi denaro. Perché è un algoritmo, mi hanno spiegato, molto, molto, molto comunista. Ma non comunista nel senso del partito comunista che era gente seria. Guardi, io non sono stato comunista. Io non sono stato comunista neanche a 16 anni, ma ho avuto l'onore di conoscere alcuni grandi vecchi comunisti. Prima di tutti mi viene in mente pizzinato. No, questo qui è un algoritmo che ha il sentore e il fetore del radicale di massa che deve punire chi ha e deve premiare chi non merita. Perché tutto deve essere schiacciato in mezzo, capisci Claudio? E quindi, se siamo schiacciati in mezzo, siamo un po' tutti uguali. Infatti, quando abbiamo fatto una conferenza stampa e il Presidente mi ha detto dai, di una cosa, c'era tanta gente, devo dire, hanno fatto una grande festa, di una cosa, che cosa vorresti? Cosa vorresti che facesse il Ministro? E io ho risposto che premiasse il merito. Facciamo una cosa nuova in Italia. Premiamo il merito. Cioè, chi ha perché ha lavorato bene deve avere anche di più e chi non ha deve andare in Serie B perché non ha lavorato bene. C'è un teatro in Italia dove per tutta una platea, un teatro nazionale, intendo, dove per tutta la platea c'è un unico bagno. Ora, siccome la gente più o meno, almeno la sera che sono stato io l'ultima volta, diciamo così, insomma, è dai 50 in su, c'era una coda all'intervallo di 80 maschietti con i capelli bianchi, per cui quelli che come me avevano esperienza sono andati a andare fuori. e gli altri si sono persi un pezzo dell'inizio del secondo atto. Ora, caro Claudio, io chiedo, ma un teatro così può essere ancora davvero teatro nazionale? Bravo. Ma sono temi purtroppo antichi, Giampiero, lo sai bene, no? Incancreniti, ahimè. Forse anche per questo il Presidente Zaya, tra i tanti complimenti meritatissimi, meritatissimi, con tante esse t'ha fatto, ho trovato giusto quando dice con incrollabile lungimiranza. Allora, la lungimiranza da te l'ho sempre conosciuta, la incrollabilità te la fai sempre di più strutturata, mi pare che sia necessaria, obbligatoria oggi. Guarda, io sono stato determinato nel volere che il Teatro del Veneto recuperasse il posto che aveva da sempre nella storia. Il Teatro Goldoni è stato fondato il 3 gennaio del 1622 dalla famiglia Vendramin. È uno dei, certamente, tutti compresi, anche quelli che sono chiusi uno dei più antichi della storia. Me lo hanno affidato a me, al Consiglio d'amministrazione, naturalmente, con la speranza che il Teatro Veneto recuperasse quei fasti, quei fasti che non sono morti tantissimi decenni fa, perché basta tornare nell'ultimo ventennio del 1800 per sapere che il Teatro di Venezia insieme con Parigi dettava il gusto. e poi ci sono i primi anni del 1900 quando debuttava la Eleonora Duse e andava a vederla Gabriele D'Annunzio e Pirandello scriveva ai gestori di prendere delle sue produzioni. Poi è chiaro che c'è stato un crollo della qualità del pubblico ci si è accontentati probabilmente e dico la storia di Venezia perché se noi recuperiamo Venezia al teatro internazionale non abbiamo recuperato solo Venezia ma abbiamo aiutato l'industria l'artigianato il commercio estero l'identità dei Veneti l'orgoglio perché è evidente che c'è una distanza abissale fra il mondo dei privati che genialmente occupano il mondo con le proprie invenzioni e il mondo della cultura ma come dico sempre a quelli che come a me lavorano protempore nel mondo della cultura siamo noi davvero in grado di dialogare con l'industria privata per dire non aiutateci ma camminiamo insieme è una bella domanda infatti mi hai interrotto non appena autodetto avrai delle ricadute economiche e giustamente mai segnalato quanto hai detto ma la mia frase concludeva e delle aperture internazionali le avrai perché condivido perfettamente quello che tu hai detto e quel tesoro quello scrigno che è la cultura e il teatro veneto deve per forza trovare un'area internazionale potrebbe dire ancora la sua a questo proposito Giampiero ti chiedo in generale secondo te se credi che il ruolo del teatro nel panorama culturale italiano sia ancora un ruolo importante fatto sangue a Milano che da sempre nel dopoguerra è stata un faro di cultura italiana acceso sul mondo e che da sempre dal dopoguerra ha accolto proprio la certe importante di cultura internazionale e li ha riversati su Milano credo che no credo che la cultura italiana sia un piccolo cucuzzaro un piccolo cucuzzaro dove ce la raccontiamo fra di noi è per questo che nel contratto di Filippo Dini abbiamo scritto che uno dei punti fondamentali su cui sarà giudicato e pagato sarà quello dell'apertura internazionale e devo dire che ha già combinato delle belle cose perché apriamo il teatro di fiume con un bellissimo Goldoni diretto da Sangati che come sai è un bravo regista un bravo artista padovano il nuovo teatro di fiume ha siglato con noi un contratto e stiamo lavorando su Dublino su Barcellona e su Londra ma anche qui se lo facciamo da soli non serve a niente dobbiamo essere capaci di spiegare alle camere di commercio agli industriali agli artigiani al mondo dell'agroalimentare al mondo del vino che vendere una bottiglia di prosecco da soli va bene magari con l'aiuto di Goldoni non del teatro Goldoni ma proprio di Carlo Goldoni invece che venderne una ne vendi una mezza è un ti auguro di aver successo sai che è una battaglia molto ardua ci sono passato con la fondazione Arena di Verona con l'ente edilico Arena di Verona come ben sai ci siamo trovati a Tokyo con una tournée con Turandotte non sapevamo neanche che c'era la camera di commercio di Verona loro non sapevano che noi eravamo là senti Giampiero qualcuno deve aver detto ma non mi ricordo proprio chi che il teatro deve essere comunque uno spazio politico non vorrei fosse stato Brecht ma uno spazio comunque che non regala quiete credo che intendesse se il politico la politica con una elevatura di qualità ma comunque qualcuno che l'ha detto diceva comunque il teatro non è certo mai uno spazio di quiete secondo te? ma guarda Brecht è morto Marx sta poco bene e io invece sono in grande forma e anch'io dico che il teatro è il luogo politico d'eccellenza intanto il luogo della città perché i teatri sono il posto dove quando c'è casino si ritrova si ritrova la città per ragionare per riflettere per pensare sto pensando alla manifestazione che abbiamo fatto per la cecchettina qualche tempo fa proprio a Padova quindi intanto il luogo della città e secondo per troppo tempo è stato io credo il luogo d'elezione di una unica cultura e questo è sbagliato sempre che questa cultura sia di una parte o dell'altra è sempre sbagliato che ci sia una sorta di presidio di una parte noi abbiamo promesso al nostro pubblico che facciamo un teatro liberale liberale proprio nel senso etimologico quindi libero e fatto da gente libera noi ospiteremo Cacciari e ospiteremo Buttafuoco ospitiamo Brecht e ospitiamo Goldoni ricorderai la fatua che il 68 fece su Carlo Goldoni e che tanto male ha fatto al teatro veneto beh il 68 ha fatto tanto male in assoluto ma in particolare l'ho fatto al teatro veneto perché appunto la maledizione lanciata sul teatro borghese di Goldoni segnò molti segnò almeno 25 anni di produzioni successive quindi noi siamo qua per fare un teatro trasversale liberale comprensibile e se possibile divertente devo dire al proposito che qualche volta mi addormento perché come dico sempre a Filippo Filippo per piacere va a vedere le prove poi mi dici se vada appena di venire a teatro o no perché non riesco più a immaginare un sedicenne un diciassettenne che viene a vedere che devo dire uno spettacolo tratto da Hugo di noia mortale perché viene fatto perché viene fatto per il regista dalla regista perché il regista non ha più nella testa molti registi alcuni ricominciano non ha più nella testa che il pubblico deve uscire divertito interessato con qualche domanda in più ma non pieno della noia della tua noia non è una fatua ma è una maledizione che vi chiaramente ogni tanto si ripercuote però ricordati che Edoardo vado a memoria ha detto che il teatro non è altro che è il disperato sforzo che fa l'uomo per dare un senso alla propria vita e forse pensando alla vita e a tutte le sue sfaccettate situazioni che oggi ci propone teatro è ancora molto vivo e va frequentato sono d'accordo ma Edoardo infatti per fare questo raccontava la storia la sua storia la sua esperienza attraverso quella di Filomena e raccontava la sua esperienza attraverso l'oro di Napoli scusa attraverso questi fantasmi se invece avesse dovuto raccontare la sua ideologia probabilmente non avremmo neanche più il ricordo di Edoardo perfetto allora Giampiero tu sai che io starei ore a parlare con te ma è come lo facessimo ma ogni tanto andiamo a ritrovarci e ogni tanto vero anche a trovarmi in qualche teatro se mi avrai lasciami solo visto che sicuramente stai trasmettendo da Verona lasciami solo dare un saluto e un ringraziamento a Giampaolo Savorelli Giampaolo Savorelli è entrato recentemente nella commissione per la qualità artistica e casualmente naturalmente la nostra qualità artistica è balzata da due punti e 50 a circa quattro punti abbiamo preso un punto e mezzo in più che è quello che ci ha portato da 90 a 92 perché il secondo teatro ha preso 91 e 50 infatti ho telefonato a quel presidente dicendo stai a rosicare a primi che stai rosicando e anche perché diciamo quei punteggi lì facevano generalmente Torino Bologna Bologna Torino Torino Bologna il fatto che siamo entrati noi capisci ha veramente sconquassato le vecchie classifiche e questo certamente lo dobbiamo anche all'attenzione di Savorelli che guarda non è stato il nostro lord protettore ma di sicuro è stato l'unico in questi anni che ci ha chiesto ma mi aiutate a capire mi mandate qualche carta per capire cosa state facendo davvero quali sono i vostri progetti quali sono i vostri numeri io voglio non lord protettori ma voglio merito qualcuno che dica c'è qualcuno più bravo di te per questo non perché c'è un un algoritmo comunista che decide a chi non dare i soldi mi associo a te nel saluto tu lo sai quanto abbracciamo insieme Gian Paolo Savorelli ricordo che oggi è stato il nostro ospite l'amico Gian Piero Beltotto presidente della fondazione del teatro stabile del Veneto ne sentiremo ancora parlare ciao Gian Piero arrivederci a te a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti